Ciao, sono Oscar degli Statuto. A nome della Nazionale Italiana Cantanti volevo fare i complimenti a Nicolò e a Silvia che si sono giudicati il premio del concorso Cuore Rep, giunto la quarta edizione. Noi abbiamo avuto il piacere e l'onore insieme ai miei colleghi e compagni di squadra Paolo Vallesi e Moreno, poi con Giulio Graglia, di fare da giudici, che è una brutta parola, in realtà su 100 canzoni che sono arrivate sceglierne due meglio delle altre è stata un'impresa molto difficile ma loro sono stati molto bravi e hanno vinto questo concorso Cuore Rep, Nicolò per le scuole secondarie e primo grade per le medie e invece Silvia per le scuole superiori. Quindi bravi, saranno premiati, speriamo si possa fare la partita del cuore entro la fine dell'anno e quindi saranno premiati prima della partita del cuore come sempre venuto, comunque in ogni caso saranno premiati e faccio ancora le ricompette bravissime, avanti così, Cuore Rep, Nazionale Italiana Cantanti, ciao!